Con il rientro di Eitan in Italia si chiude il cerchio su una vicenda, durata più di due mesi. Era l'11 settembre scorso quando il nonno, Shmuel Peleg, con l'aiuto di un conoscente, portava via il bambino dalla casa degli zii alla frazione rotta di Travacosico Mario per tenerlo con sé in Israele. 83 giorni di angoscia per Ayabiran e Ornirco, che hanno fatto di tutto per riportarlo qui dove è cresciuto, e ci sono riusciti, passando, a differenza del nonno, per le vie legali, coinvolgendo giudici e tribunali e ottenendo il diritto di poter crescere il bimbo in Italia. In occasione del suo ritorno, venerdì sera, i legali della famiglia Ayabiran hanno chiesto rispetto per la privacy di Eitan e degli zii. Desideriamo che possa cessare il clamore mediatico, si legge in una nota diffusa nelle scorse ore, la tutela della tranquillità di Eitan è ora responsabilità di tutti. Un appello che i sindaci di Pavia e Travacosico Mario hanno subito accolto. Sì, assolutamente, è veramente una bella notizia, siamo tutti molto contenti di questo ritorno, e soprattutto del fatto che questo bambino possa ritrovare una serenità, una tranquillità, diciamo una routine di normalità nella sua vita che già ha avuto veramente uno stravolgimento incredibile. A questa famiglia c'è sempre chiesto riservatezza e io condivido questa scelta, per cui noi siamo felici di questo ritorno, il nostro cuore è sicuramente vicino a questo bambino, ma siamo un passo indietro. Credo che più che altro abbia bisogno di discrezione e di silenzio attorno. Quello di Eitan, secondo la procura di Pavia, è stato a tutti gli effetti un rapimento, una tesi sposata anche dal giudice della Corte Suprema Israeliana, che ha disposto il rientro del bambino in Italia, come previsto, dalla Convenzione dell'AIA sulla sottrazione dei minori, nei confronti del nonno Shmuel Peleg e del suo complice, Gabriela Butbul. Sono stati emessi due mandati di arresto internazionali.